Questo prodotto realizzato da Lotus Grill ha conquistato una votazione di 9.2 su 10 punti totali. Risulta essere il più votato per questa categoria con 3517 valutazioni. Le sue peculiarità sono portabilità, manovrabilità, robustezza, comodo, facile da pulire, ottimo rapporto qualità prezzo. Se cerchi maggiori informazioni e vuoi vedere il prezzo aggiornato di questo prodotto controlla il link che trovi nella descrizione sotto il video. Campingas ha realizzato un prodotto a cui abbiamo assegnato un voto di 9 su un totale di 10 punti. Risulta al momento essere il più venduto online. Viene molto apprezzato per queste caratteristiche. Facile da montare. Robustezza, ottimo rapporto qualità prezzo, facile da pulire. Se ti interessa a questo prodotto e vuoi saperne di più o semplicemente vuoi conoscere il suo prezzo, clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video. La votazione finale assegnata a questo prodotto di Ozzavo è di 9 voti su 10. Risulta essere la nostra scelta migliore. I punti di forza sono. Facile da usare. Ottimo rapporto qualità prezzo. Comodo. Facile da pulire. Se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo, clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video. Il voto finale aggiudicato da questo articolo di Tescoma è di 8.6 voti su 10. Risulta essere il più scontato di questa selezione. Le sue principali funzionalità sono. Comodo, robustezza, manovrabilità, facile da pulire. Puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video. Grazie a tutti.